ciao a tutti sono onorata di essere qui con simone leonostro di sorgenia grazie mille ho l'opportunità di fargli delle domande oltre che i complimenti per la vostra bellissima campagna con bebevio che ho trovato davvero estremamente coinvolgente e comincio proprio a chiederti qualcosa che riguarda questa campagna come avete usato youtube come youtube ha funzionato per questa campagna intanto grazie per i complimenti perché sono sempre graditi e ci danno anche la testimonianza del fatto che il lavoro la fatica che facciamo è in qualche modo premiata e raggiunge il nostro target che è in fondo il pubblico abbiamo usato youtube per diciamo per due funzioni la prima non necessariamente diciamo di lungo termine cioè quella di rafforzare la comunicazione che abbiamo fatto attraverso la televisione per cercare di enfatizzare il messaggio che stiamo mandando ai nostri clienti e la seconda invece molto più importante è quella per iniziare una relazione con quello che è il nostro target di riferimento che è l'utente digitale e attraverso un canale importante come youtube che poi in fondo è la televisione dei nativi digitali ma anche di chi ormai si è votato al digitale abbiamo pensato di comunicare il nostro spot il nostro advertising che come avrete potuto vedere era un advertising emotivamente coinvolgente che quindi aveva bisogno di un contenitore molto importante di livello molto alto che arrivasse realmente alle persone intanto grazie mille come non essere d'accordo col contenitore ti chiedo visto hai parlato di giovani di tendenze quali sono i trend che vedi diciamo da qui a tre anni perché secondo me più in là di tre anni è un po difficile andare nella comunicazione ma guarda ti dico secondo me tre anni è un orizzonte temporale enorme per per pianificare qualsiasi cosa intanto perché la comunicazione nasce necessariamente anche dalle evoluzioni dei device tecnologici che abilitano a questo tipo di telecomunicazione quindi non possiamo immaginarci che cosa si inventeranno le grandi case che producono gli smartphone o comunque device digitali da qui a neanche un anno figuriamoci a tre sicuramente posso individuare dei macro trend che sono quelli che cavalcano la maggiore attenzione a fare un messaggio customizzato sui clienti customizzato sugli utenti che messaggi che vanno a colpire gli utenti nel momento esatto in cui hanno voglia e bisogno di ricevere quel messaggio messaggi che generino un maggiore engagement dei clienti messaggi che in qualche modo siano facilmente fruibili abbiano anche uno stile di comunicazione più adatto ai tempi moderni quindi molto sintetico molto diretto molto veloce e anche molto non vorrei dire iconoclassico ma comunque fatto di immagini che sono poi quelle che in questo momento richiamano molto più l'attenzione di tante parole su cui spesso invece la gente si distrae certo secondo te noi come piattaforma come possiamo esservi vicini in questa cosa che deve che sta accadendo che accade che accadrà voi sicuramente rappresentate la piattaforma per chi cerca dei contenuti digitali e per chi vuole utilizzare il digitale per informarsi piuttosto che per avere invece dei momenti di divertimento puro come tutti quelli che utilizzano youtube in generale la piattaforma di google quindi voi siete fondamentali in quella che raccontavo prima essere l'evoluzione della comunicazione anche attraverso a quello che vi inventerete per arrivare sempre in maniera più diretta agli utenti noi adatteremo il nostro stile di comunicazione non è più quasi l'azienda l'industria che chiede un tipo di comunicazione alla piattaforma ma è la piattaforma che abilita a uno modello di comunicazione sempre più vicino alla realtà io mi immagino un futuro in cui si riuscirà a arrivare direttamente al cuore delle persone attraverso sistemi tecnologici e modelli di comunicazione sempre più vicini al real time quindi non so mi immagino un futuro in cui metteremo le lenti a contatto dove si riusciranno a vedere direttamente film o spot a contatto con col proprio occhio senza bisogno di alcun tipo di device. E a proposito di futuro parlando invece di un futuro più prossimo che cosa c'è nel vostro futuro? Bebevio 2? Qualcos'altro? Una sorpresa? Una novità? Beh dunque intanto con Bebe abbiamo sviluppato e costruito una relazione che va forse anche al di là del rapporto professionale perché ci siamo conosciuti ci vogliamo bene anche quasi a livello di famiglia quindi insomma abbiamo una relazione importante quindi non vedo la ragione per non cercare di andare avanti nella nostra relazione. Avrete presto delle sorprese anche nel futuro brevissimo perché stiamo lavorando con Bebe per dare seguito a quello che è stato lo spot che poi ci ha visto anche essere premiati e quindi io credo che a breve vedremo i risultati di queste nuove collaborazioni e non escludo che i risultati di queste nuove collaborazioni siano solo un passo verso un percorso ancora più lungo. In generale la nostra strategia diciamo probabilmente ormai è abbastanza nota, noi vogliamo trasformare il mercato dell'energia, il mondo dell'energia in un mercato che viaggi esclusivamente sul digitale perché è il digitale secondo noi la piattaforma elettiva per sia comunicare ai clienti ma anche sia acquisire i clienti e quindi è sul digitale che dobbiamo investire e puntare al massimo per rendere sempre più fruibile e sempre più veloce la possibilità per i nostri clienti di vederci, apprezzarci e sceglierci. È bellissimo sentire i nostri clienti che dicono queste cose, è davvero molto bello e approfitto di te per un'ultima battuta. Quale consiglio daresti a un brand che approccia adesso il mondo delle piattaforme digitali e magari una video strategy che vorrebbe fare una video strategy come quella che avete fatto voi? Allora al di là delle ricette che non esistono perché ogni azienda e ogni industria ha delle peculiarità e anche ogni brand hanno delle peculiarità che sono difficilmente esportabili e shareabili anche se ci sono ovviamente dei macro accorgimenti che sono abbastanza però di dominio pubblico. Il mio consiglio veramente numero uno è quello di sviluppare una cultura dell'errore molto forte perché il digitale offre il grande vantaggio di poter sperimentare senza drammi nel sperimentare anche degli insuccessi. Ogni insuccesso in realtà si porta dietro un portato di esperienze e conoscenze molto più grande di ogni successo perché attraverso il trial and error si riesce a sviluppare la reale strategia che è customizzata sul proprio brand. Quindi il mio consiglio è provate, 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 sfruttate la flessibilità del digitale per sperimentare e andare oltre quelli che sono i classici paradigmi a cui siamo stati abituati quando si parla di comunicazione perché chi trionferà nel futuro della comunicazione è solo chi saprà e avrà avuto il coraggio di osare. Sono dei preziosissimi consigli e ti ringrazio veramente moltissimo. Grazie a voi veramente, grazie.